Ciao a tutti, io sono Laura e benvenuti nel mio mondo dei giocattoli. Oggi abbiamo della Giochi Preciosi Veri Bella 100% Airy, quindi Veri Bella acconciature. Yeee! Allora, come vedete si devono mettere i capelli, perché ovviamente acconciature, però mi serve una cavia perché io non voglio rovinare i miei capelli, cioè io ci tengo. E ho invitato una persona che però non lo sa, cioè... non lo so, di venire a fare un video, ma in realtà non voglio rovinarmi i capelli, però... Se va male, fatti suoi. È lei che è venuta. Se va bene, me lo faccio anch'io. Sì, è arrivata la cavia. Sì, vieni, entra, entra! Posso entrare? Sì! Eccomi! Ciao, Marti! Ciao! Ti vieni tanto bene, lo sai? Sì. Cosa facciamo oggi? Veri Bella, 100% ero, di giochi preziosi? Beh, 5 anni in su. Tu quanto li hai? 12. Certo? Non è 5? No. Dai. No. Ti caccio? Allora, istruzioni. Perché ci serve? Dai, guarda. Molto facile da montare. Questo va da sopra, fine. Dove? Quello va lì. Ok, questi magari servono. Uno. E due. Voglio vedere un attimo. Questo si mette qui. No, almeno. Stai, dia fatta. Primo passo superato. Aspetta, 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 aspetta. Qua si mettono dentro le perline. Mettile. Fare piacere. Mettile, Rosy. Capia. Cosa? Eh, Rosy, ti voglio bene. Vediamo, mettiamole. Ci mettono con le forcine? Ok. Come si mettono? Non lo so, Rosy. Ma cosa? Carosi. Carosi? Sì, è un nuovo nickname. Ok. Aiutami a metterle, dai, che tu sei brava. Da sopra mi sa che si mettono, eh. Io devo guardare le stesse. Forse ho capito, guarda, si infilano di così. Ah! Eh, hai capito? No, guarda, di così si infilano. Oh, vedi? Voglio farlo io, allora. Aspetta, mettiamole tutte arancioni, che se no tu metti 20.000 colori. Prima con gli arancioni voglio mettere. Ma non ho tutti quei colori. E dopo tu metti tutti quei colori che vuoi. Adesso tocca a me. Ma la smetti? No. Non la smetterò mai, mai, mai. Ok, ora mi servono gli elastici. Beh, io non vi faccio comandare. Per piacere. Vabbè. Guarda che carini. Hai degli elastici negli occhi. Nelle isole. Non conosci manco le canzone di seconda che è quello. Il mio canzone preferito è uno. Alex, per te. Esatto. Che non canta le isole negli occhi. Così sì, dovrò però metterci un tommo. No. Così, guarda. Lo sai, è vero che sì. Così. Così. Guarda che lo devi arrotolare. Ah, last. Elastico per appoggiarlo? No, elastico per arrotolarlo. Ah, così? Mmh. Ah, allora tutto a piacere. Perché? Vengo la nuova senso. Ok. Baciami e portami e falla. Ok. Ora provo a metterle sulle tue ciocche? No. Ehm, sulle tue. Perché sono le mie? Perché l'hai fatta tu. Ok. Proviamo. Allora, dobbiamo mettere, ho visto bene le istruzioni, questa qua dentro. Così, sicura? Sì. Adesso, dobbiamo prendere una ciocca da rosy. Non troppo sottile. Vieni, è diventata bellissima! Ehi, che ti vuole. Mmh. Non riesce. Sì, che ci viene. Dai. Dai, super parrucchiera! E cosa devo fare? Sì. Devi tipo arrotolarla. Qui? Così. La tiri giù? Ah, sì. E poi deve rilasciare così? Eh, devi rilasciare. Le marie? No, non devi rilasciare. La maria deve passare attraverso. Non sbaglio. Ah, ok. Non lo so. La mano? No, no. No, mi fa che... ah così? sopra? allora levali da sopra tutta una volta, vai prova dai, prova! il primo è andato! facciamo quel secondo il secondo non si stacca ah ah ah! è andato malissimo! io direi esperimento fallito ci riproveremo nel prossimo video quando... perché non l'abbiamo provato prima? allora mi raccomando commentate qua sotto e se l'avete già fatto spiegateci come si fa mettete mi piace per aiutarci esatto! e nel prossimo video ciao! ciao!